ciao a tutti allora ragazzi avete visto la puntata di un posto al sole di mercoledì 6 ottobre 2024 sono successo un po di cosettine interessanti secondo me allora volevo parlare in particolare della vicenda che riguarda manuela costabile e adesso insomma si è aggiunto anche nico e poi vabbè di conseguenza anche valeria jim e quant'altro allora allora da dove partiamo facciamo un piccolissimo riassunto allora avevamo questa coppia che a me piaceva tantissimo manuela insieme a costabile perché sono secondo me era meglio per manuela voltare pagina staccarsi definitivamente da nico trovarsi un altro bravo ragazzo vivere la sua storia d'amore nico in questo periodo poi ho conosciuto valeria quindi anche lui molto ero molto contento del fatto che finalmente dopo tutta la vicenda della povera susanna nico sempre cupo sempre ma è una gioia sempre buttato sul lavoro casa e lavoro finalmente aveva trovato questa sua ex fidanzata con cui a riprendere una storia è un po frivolare molto festaiola molto vacanziera diciamo però insomma secondo me era quello che ci voleva per nico per dargli una bella scossa per togliersi un po di polvere virgolette da dosso e cominciare insomma essere un pochino più come si dice insomma almeno stare sempre al lavoro e basta insomma concedersi un po di distrazione e quindi insomma abbiamo avuto questa storia che si sta evolvendo con valeria nel frattempo però cosa è successo è successo che allora innanzitutto c'era sarà stata la bella scena con costabile e quando lui le chiede qual era il suo sogno un suo sogno che voleva realizzare emanuele ha confesso a costabile che voleva fare questo parco archeologico per bambini visto che sta studiando all'università archeologia e lui aveva dato la dritta di chiedere dei fondi europei visto che ci sono a disposizione per le giovani imprenditrici donne insomma poteva essere un'occasione per avere questi fondi e quindi fare ha fatto lui tutta la richiesta tutto quanto ed era bello il fatto che lui avesse chiesto a lei qual era un suo sogno da realizzare e che l'avesse aiutata a realizzare questo sogno quindi coppia perfetta belli simpatici carino un bel ragazzo mi piace come attore come ragazzo secondo me non formiamo una bella coppia purtroppo abbiamo saputo che devolversi della situazione che lui questi soldi se li era intascati e non per realizzare il progetto di emanuele ma per pagare dei debiti che aveva con delle persone che insomma lui ha fatto dei lavori a caseificio dove di suo padre dove lavora con i suoi fratelli e doveva restituire questi soldi e quindi ha avuto l'opportunità di pre di fregare i soldi emanuela per pagare i suoi debiti ha insaputo naturalmente quando l'ha scoperto naturalmente caduto dalle nuvole scene toste veramente dove sono lei disperata diceva ecco sono proprio stupida sono caduta nelle mani di questo qua che mi ha ingannato pensavo fosse davvero una storia bella seria insomma che potesse davvero andare avanti invece ingannata per l'ennesima volta perché sono pirla belle le scene di manuela veramente brava gina marante da fare la sua parte disperata perché proprio non riesco a imbroccarne una ok e abbiamo visto che filippo e serena vista la sua disperazione vista che sono contenti delle evoluzioni che ha fatto manuela da quando ha cominciato ha ripreso gli studi è diventata molto più responsabile insomma questa poi seguiva veramente questo suo sogno grave veramente il suo grande sogno che ne parlava con entusiasmo non ho deciso di aiutarla di prestargli dei soldi per portare avanti il suo sogno e lei contentissima e molto coscienziosa nel fatto di dire adesso ve li studi risco appena posto fino all'ultimo centesimo se non è un prestito a fondo perduto un regalo questi soldi però voglio impegnarmi per restituirveli quindi ha cercato anche lavoro che si è fatta super per forza vulcano anche qui sarebbe la prima parentesi però è una sopra ma bellissimo anzi poi se la vedo bene come cameriere vulcano quindi mi piace anche questa cosa alla fine poi è stata buona questa cosa e quindi abbiamo finalmente nella puntata di nel frattempo ok nico è venuto a sapere di quello che gli è successo perché lei un giorno glielo ha raccontato quello che è successo con costabile e lui da avvocato gli ha dato un parere guarda mi studi un attimo la questione perché secondo me potresti invalerti su di lui sul fatto che alla fine ti ha fregato i soldi lei è molto preoccupata del fatto che aveva preso dei soldi dalla commissione europea diciamo e se qualcuno viene a controllare che sono le cose che non sono state dei soldi non sono andati proprio per quella cosa lì potrebbe avere dei guai quindi aveva chiesto un parere legale per questo e di cos'è informato abbiamo saputo nella puntata di martedì nico ha detto manuela guarda che se vuoi tu potresti intimare costabile di restituirsi i soldi che ti ha rubato entro quundici giorni e se non lo fa lo gli facciamo causa manuele molto indeciso perché dice che mi ha sfidanzato cioè non voglio farne del male così però insomma diciamo che sia lui che serena sua sorella serena la convincono dicendo guarda che è un tuo diritto se io capisco che tu se è rilegata sentimentalmente a lui quindi è difficile trovare il coraggio di adesso vado contro però devi anche capire che lui ti ha rubato i soldi e quindi sarebbe giusto che te li restituisse anche perché insomma non serena non è che parla per il fatto di a vorrei avere i suoi soldi assolutamente e glielo dice infatti manuele ha dicersi insomma se riesco ad avere i soldi così me li posso restituire ma se nella ricetta è tranquilla per quello non c'è problema il problema è che però insomma non è giusto che lui tarba rubato con quei soldi lì è giusto che te li restituisca indieto però manuele anche preoccupato per il fatto che insomma lui costabile doveva questi soldi a delle persone poco raccomandabili e non vuole infierire troppo su lui anche se sarebbe giusto che le restituisse e quindi alla fine si fa convincere da nico a mandare questa pec a costabile all'avvocato di costabile per avere questi soldi entro 15 giorni sono dopo si andrà in causa nel frattempo qui ne abbiamo anche il fatto che finalmente il parco tecnologico è terminato e manuele sprezza gioia da tutti i pori e finalmente ci sarà questa inaugurazione inaugurazione a cui ha invitato naturalmente tutti quanti tutte le persone che conosce e naturalmente le persone che gli stanno più vicino quindi filippo serena con le limbe e poi sono invitato anche dico che è molto entusiasmo entusiasta dell'idea di manuele quando gliel'ho spiegata c'è stata questa scena bella fra di loro questa bella intesa ritrovata occhio è quindi molto contente ha invitato anche loro jimmy aveva un impegno con valeria e mina perché dovevano andare a vedere un tiktoker un blogger adesso mi ricordo però insomma alla fine lui nico l'ha detto guarda sarebbe meglio che tu andassi la manuela c'è alla inaugurazione di questa parte l'ho archeologico perché lei ci tiene tantissimo ti sta aiutando anche con i compiti visto questi problemi che sta avendo il piccolo jimmy a scuola e poi solo perché si tiene e gimme insomma a me piacerebbe tanto andare a vedere questo blog perché ci tengo tantissimo però ci terrà e anche molto andare all'inaugurazione dell'idea manuela insomma alla fine c'è stata questa bella scena fra nico e jimmy dove lui non l'ha forzato di no adesso andiamo a parlo decidi tu ormai sei grande per prendere una decisione lui mi piacerebbe andare al tiktoker però io ci tengo di più ad andare ad emanuele infatti vanno all'inaugurazione quindi ma noi era contentissima anche nel fatto che ci sia suo nipote che ci sono anche cerchi rene la figlia di filico e serena quindi tutta contenta dalle sue nipotini attorno di avere anche nico le ringrazia fa il discorso forzata da serena devo formare questo discorso si vergogna invece serena la obbliga a fare il discorso e ringrazia tutti quanti veramente contenta di questa cosa ma c'è umma perché arriva qualcuno a interrompere la festa di inaugurazione ed è proprio costabile costabile arriva arrabbiatissimo diceva come mi è arrivata una pec e gli avvocato mi ha avvertito che è arrivato a questo perché io devo restituirsi questi soldi e manuela dice è giusto visto che me ne hai rubati lui è molto dispiaciuto io quando avevo letto che costabile sarebbe andato infuriato a rominare l'inaugurazione non capivo perché se una scusa se hai fregato i soldi e trattata così criticavo ti infuri invece lui è arrabbiato per il fatto che deve restituire entro quundici giorni questi soldi che lui purtroppo non ha in questo momento e quindi all'inizio lui cerca di dire guarda vorrei restituirsi però in questo momento non so proprio come fare e quindi ci sono sono veramente pochissimo tempo non ce la posso fare però insomma visto che vista la situazione interviene nico dicendo guarda che tu questi soldi li deve restituire lui costabile si fa può prendere dall'agitazione sono e due cominciano a litigare e praticamente insomma c'è questa scena dove costabile cerca di parlare con manuela agitato arrabbiato per la pec e nico la difende dicendo tu questi soldi li devi dare e quindi insomma si fanno un po prendere la mano e due cominciano a litigare con il mezzo ma due da che cerca di dividere in qualche maniera e mi sono dimenticate di dire che nel frattempo all'inaugurazione è arrivata anche valeria facendo una sorpresa l'inico che non se l'aspettava che non è felicissimo di vedere valeria secondo me non per il fatto non si aspettava che ci fosse ma perché si stava godendo il momento felice di manuela quindi come se mettesse un po coprisse un po l'entusiasmo di manuela quindi non è felicissimo emanuela assiste a questo litigio fra nico e costabile e vediamo che ci rimane un po male perché insomma sa benissimo che manuela è la ex di nico sa benissimo che c'è ancora un buon rapporto fra due loro che insomma li ha visti anche insieme sa che c'è ancora qualcosa un bel feeling fra di loro e sappiamo che insomma lei si ingelosirà e che insomma probabilmente lo dirà nico adesso vediamo se ci sarà un litigio o se lo dirà così tranquillamente mettendo qualche sospetto dicendo che ti tengo d'occhio e vediamo un attimo comunque interessante vedere questo un triangolo perché c'è un quartetto perché è costabile con manuela che cerca di chiedere di darmi una mano se adesso non riesco a darti soldi nico che interviene valeria che vede tutto dice cosa sta succedendo quello del mio uomo che cavolo fai e qui insomma sono un po curioso di vedere un po come si come si districcherà questa matassa come andrà a finire tutta questa storia sia alla fine manuela andrà in fondo e farà a casa o costabile che probabilmente non dirà i soldi indietro così per breve tempo se nico sarà a suo fianco e se valeria sarà gelosa a tal punto di arrabbiarsi con nico magari andare da manuela a chiarire le cose non sarebbe interessante il chiarimento un faccia a faccia fra valeria emanuela e vedremo chi le dire due vincerà anche se io credo che gli autori alla fine faranno vincere manuela e che mi devo essere metterli insieme grazie a tutte queste vicende che le stanno mettendo gli stanno facendo riavvicinare voi cosa ne dite cosa ne pensate secondo voi cosa succederà cosa vorreste che capiterà che accada ai vari personaggi iscrivetevi nei commenti ma quando iscrivetevi al nostro canale youtube devo essere la squadra anche perché abbiamo tantissimi contenuti su posta al sole ma anche su tantissimi atti argomenti e poi la ci vediamo con il suo video ciao a tutti da parire aliena del canale youtube e l'ora scuola